Ci siamo, fine delle comunicazioni, ho il piacere di presentare l'ingegner Gian Piero Negri che è l'ospite di questa lezione del PhD Plus. L'ingegner Negri è esperto di consulenza strategica, di nuove tecnologie a supporto della creazione di start-up innovative. Svolge anche consulenza per reperimento di fondi e di capitale di rischio e si occupa anche appunto di attività in collaborazione col mercato e ci parlerà appunto di sviluppo di impresa. Grazie, buongiorno a tutti. Ho impostato la presentazione in questa maniera, innanzitutto comincio a presentarmi io, poi magari per prendere un po' più interattiva la cosa chiederei a voi, non uno per uno, se no facciamo notte, però almeno per avere un'idea un po' dell'estrazione tecnica che avete. E poi entriamo nel dettaglio del tema caldo della giornata che mi è stato chiesto di svolgere. Allora, per inquadrare la mia attività, dunque, io svolgo principalmente attività istituzionale di scouting tecnologico. Adesso non so quanti di voi magari mi avranno incrociato in università o in camera di commercio. Per conto di incubatori, appunto, camera di commercio e università, svolgo un'attività proprio di individuazione e di punti di interesse a maggior valore aggiunto. Magari potreste avere qualche tecnologia che non vi rendete conto di quanto vale e magari insieme, facendo un paio di ragionamenti, viene fuori che magari varrebbe la pena anche di andare avanti. Poi c'è una parte che mi vede coinvolto nell'area temporary management come responsabile di innovazione in una società che si chiama CD Manager, che ha un'area dedicata all'innovazione e dà dei manager per l'accelerazione dello startup attraverso l'inserimento di un manager che aiuta l'imprenditore per un periodo limitato, definito e concordato di tempo a partire. Ecco, l'ultima cosa è che collaboro dal 2006, credo, nel 2006, col Consolato Britannico di Milano, con cui ho un buon rapporto, e quando ci sono delle opportunità, cioè ci sono delle ragioni di insediamento nel Regno Unito, si valuta con loro questa possibilità. Ecco, dopo magari rubo gli ultimi dieci minuti per approfondire questo aspetto. Allora, prima di passare a questo, volevo chiedervi, così un po' per alzata di mano, quanti sono di ingegneria qua dentro? Chimica? Informatica? Ecco, abbiamo già... Altri? Ecco, gli altri che cosa... Matematica? Agraria? Di là? Fisica? Comunicazione? Ok, buongiorno. Bene, così mi permette un po' di capire un po' anche l'area di estrazione e quale può essere interesse. Vi dico subito una cosa che... Io ho cominciato a fare scouting nel 2007, circa. Anzi, prima al Sant'Anna nel 2004, poi pian piano la cosa si è sviluppata. Man mano vedo che la spinta, la vena degli ingegneri cala e aumenta invece quella di tutte le altre facoltà, per cui chi anche viene da fisica, da matematica, da biologia, sappia che magari è il suo momento. Perché spesso, anche io sono ingegnere, posso parlare male degli ingegneri, quando gli si dice che cosa fare lo fanno, però il che cosa fare va detto. Quindi, quando si è davanti a un problema che nasce da un ambito biologico, chimico, il chimico dà l'innovazione, poi c'è l'ingegnerizzazione, quindi talvolta l'innovazione, ed è il mio mestiere andare a caccia di dove sta l'innovazione, la vado a prendere non sempre in un ambito ingegneristico. Quindi, l'invito è sempre quello di essere propositivi nel dire qual è la vostra innovazione, ma non nel giudicarla da voi. Cioè, separate sempre quello che sapete fare come innovatori, come abilitatore di un cambiamento, di un miglioramento, dal valutare se ha un valore o no, perché quello non è lavoro vostro. Ecco, e diventa purtroppo il motivo per cui tanta innovazione non emerge, perché già dall'inizio uno si dice, no, ma tanto non si può fare. Ecco, questo è solo come cappello. Poi l'invito, ovviamente, è a parlarci, ecco, nei limiti di quello che può essere il mio supporto, alla fine dell'incontro, se volete fermarvi e entrare nel merito di qualche vostra proposta, la affronteremo. Allora, dunque, ci sono varie definizioni, ho preso una tranquillamente disponibile su internet. Quindi, business development è l'insieme di sviluppate tecniche pensate per accrescere un'impresa economica. E ce ne sono vari modi. Io preferisco, però, andare più nel dettaglio di quello che riguarda noi. Dunque, noi abbiamo tre modi in università. Abbiamo la valorizzazione del brevetto, le commesse di ricerca, cose che si sono sempre fatte. Niente di nuovo. Qualsiasi laboratorio, qualsiasi professore, poteva svolgere già questa attività senza PSD+, senza niente. Insomma, è una cosa normale che si è sempre fatta. Si è aggiunta la creazione di impresa e di nuovi business. è perché si è aggiunta. Si è aggiunta perché a un certo punto il modo di procedere tradizionale, tra virgolette, si è un po' arrestato. O anche perché l'innovazione e la conoscenza è diventata talmente importante che vale la pena valorizzarla tutta. Non solo quello che interessa alle aziende che vengono a cercarla. Allora, vediamo un po'. Andiamo subito nel pratico. Com'è che si possono fare i soldi facendo innovazione? Ma, allora, se abbiamo dei brevetti, penso che vi abbiano già parlato di possibilità di avere una royalties sulle vendite. O che potete addirittura vendere il brevetto. Oppure cederlo in licenza con un cannone periodico, mensile, annuo. Ovviamente con la possibilità di stracciare il contratto se il vostro partner non raggiunge gli obiettivi o lo mette nel cassetto. Commesse di ricerca, idem. Allora, stesso ragionamento. C'è una possibilità di pagamento per studi di effettività, per aver consegnato un progetto, oppure invece che farvi pagare tutto subito e poi l'impresa dice, ma dopo non so come va, partecipate al rischio anche voi, fate pagare un po' di meno prima e partecipate in modo generoso poi ai ricavi, tenendo conto che bisogna vedere se arriveranno. Poi c'è il discorso di impresa. Allora, l'impresa spin-off è un'impresa che sviluppa progetti, però può erogare anche servizi e può vendere prodotti. è molto più impegnativo, naturalmente, perché non si tratta più di fare i professionisti, si tratta di fare gli imprenditori. È un cambio epocale. Il problema è, ma per tutti, per tutte le tre fasi, per tutti gli ambiti che abbiamo detto, ma perché dovrebbe interessare? Perché qualcuno dovrebbe comprare la mia innovazione? Io ho fatto un miglioramento, però che questo scatene una voglia d'acquisto in qualcuno è tutto da dimostrare, no? Allora, perché un'impresa e un cliente dovrebbero essere interessati all'acquisto della mia innovazione? Già, non si può dare, voglio dire, il messaggio è, ovviamente, ma lo sappiamo tutti benissimo, non si può dare per scontato che qualcuno venga a comprare. Allora, andiamo a fondo, vediamo un po' qual è il motivo che spinge. Allora, ci possono essere delle motivazioni di carattere tecnico-economico, nel senso che l'impresa sempre, per propria mission, vuole migliorare i propri prodotti o i propri processi produttivi, per cui ogni soluzione di miglioramento è sicuramente benvenuta, no? Come la voce risparmio. Poi c'è il problema della competizione sul mercato. Cioè, un'azienda disperata viene magari a cercare novità, innovazioni, perché sta perdendo quote di mercato. perché il concorrente sta facendo meglio. Sta facendo meglio in che ambito? E sta mettendo sul mercato delle soluzioni che si adeguano alle mutate esigenze del cliente. Il cliente ha mutato le sue esigenze, il primo che arriva a rispondere vende e gli altri no. semplicemente perché il cliente vuole un'altra cosa ormai. e poi c'è sono io e poi c'è il problema diciamo incrementale di migliorare un oggetto che c'è già o una funzione che c'è già che afferisce tutta l'area dell'innovazione cosiddetta incrementale. Mentre l'altra è radicale nel senso che si tratta proprio di mettere sul mercato qualcosa di completamente diverso, qualcosa che rompe col passato. Poi c'è il beneficio di preferenza o simbolico che è quello legato al fatto che si compara perché è lui, perché è quel fornitore quello che ci dà sicurezza, perché è quello che ci accredita sul mercato. Un'azienda potrebbe venire qua perché siete dell'Università di Pisa. Ecco, tenete sempre presente che questi aspetti vanno considerati quando un domani magari in un pitch dite chi siete e non vi dimenticate di dire da che Università venite. Ecco, questo è un errore grave. Ecco, talvolta l'interlocutore compra perché comunque voi godete di un brand che viene prima di voi. Allora, il modello tradizionale era che l'impresa per competere sul mercato per vendere nel proprio mercato di riferimento andava a cercare in Università delle soluzioni. Allora, cosa è successo? È successo che questo modello è entrato in crisi. È entrato in crisi perché le imprese ormai hanno una capacità competitiva più modesta, hanno meno risorse finanziarie e perché la tecnologia è talmente rapida che i tecnici dentro le imprese non riescono a stare a passo con i tempi. Non ce la fanno più. C'è una tale rapidità che l'impresa, una volta che ha fatto un investimento di certe persone, cosa fa? Li manda a casa? Cioè, si creano delle difficoltà di rigidità organizzativa. Allora, ha preso piede un altro modello, questo, la creazione di un'impresa che fa da cuscinetto, da buffer, se volete, tra il mondo delle imprese e l'università. Dov'è il vantaggio? Il vantaggio di questo modello è che la mutata complessità del sistema richiede un traduttore tra l'impresa e l'università. Cioè, se un'impresa ormai anche piccola deve competere facendo innovazione, non ha gli strumenti per parlare un professore. Non ha la capacità di valutare se una tecnologia è quella giusta per lei. Non ce la fa. Ha bisogno una predigestione. Ha bisogno di un soggetto, un soggetto giuridico che fa semplicemente questo, sa andare nei laboratori perché ci ha vissuto fino all'altro giorno, sa prendere i risultati della ricerca di base, sa capire con quei risultati che tipo di problemi si possono risolvere e poi può proporre all'impresa una classe di nuove soluzioni di problemi che prima non si potevano risolvere. L'impresa non ci sarebbe mai arrivata. È la capacità di traduzione dello spin-off di chi sta in un ente intermedio che è capace di passare dalla conoscenza del mondo alla traduzione in classe di problemi. Per esempio, prendiamo le medicine, ci sono medicine che fino a ieri potrebbero risolvere certi tipi di malattie. Da domani, grazie alla genetica o genomica che sia, non chiedetemi di più, si può arrivare a risolvere altri tipi di malattie e così via, sempre di più, man mano che si sposta verso contenuti di tipo genetico. Allora, che cos'è che interessa all'università? Perché l'università dovrebbe appoggiare questo processo? Perché, a parte che diminuiscono sempre più i finanziamenti per cui chi vuole fare ricerca oggi, le possibilità di rimanere sono sempre un po' di meno. E quindi, bisogna cercare di andare a riperire i soldi dove ci stanno. Non è che non ci sono più i soldi, si sono spostati in altri ambiti. Quindi bisogna andarle a prendere dove sono. Sono dove stanno i mercati finanziari, dove ci sono imprese che possono investire in innovazione, pur di ricevere una comunicazione comprensibile. Prego. Allora, se io sono in università, sono capacissimo di risolvere problemi, attendo che arrivi l'impresa, l'impresa mi chiede di risolvere il suo problema, io glielo risolvo e è finita lì. Ma l'impresa cercherà di risolvere i suoi problemi, non valorizzerà a tutto tondo la mia tecnologia. per cui ho tutta una torta sguarnita, completamente non presidiata di applicazioni che sicuramente l'impresa sicuramente non si mette a valorizzare perché non è il suo settore. Ecco per cui, ecco perché lo spin-off come obiettivo è quello di rivolgersi a società che appartengono a più settori diversi. Perché ogni impresa là in fondo avrà il suo mercato e avrà il suo bel interesse interagire. Questo è un motivo perché interessa però all'università. Perché se si fanno dei buoni accordi tra spin-off e università si può dire io laboratorio ti metto a disposizione i risultati della mia ricerca di base. Quindi tu non hai neanche bisogno di farti una struttura di ricerca. Però in cambio impegnati a trovare delle applicazioni dopo vediamo come e riconoscimi ha successo una percentuale. Ed ecco che in quella maniera magia dalle magie il laboratorio davvero ricomincia a fare ricerca di base. Lo spin-off fa la sua bella ricerca applicata e ci guadagnano tutti e due senza trovarsi un laboratorio che deve fare ricerca di base ricerca applicata ricerca di finanziamenti ed è ingolfato di mille cose e poi non fa più ricerca di base. l'ultimo punto non è banale nel senso che soprattutto nell'ambito di CD manager si incontrano spesso imprese che dicono ma si potrebbe fare questo si potrebbe fare quell'altro certo si può fare una valutazione costa se un'azienda è piccola piuttosto rinuncia qual è il privilegio dello spin-off che se lo fa da solo la valutazione perché viene da quel mondo lì quindi c'è un vantaggio competitivo anche qui sul mercato pensate un'impresa che vuole sviluppare un nuovo gli viene in mente un'idea però dopo dice ma scientificamente sta in piedi e poi cosa fa va in università da chi e con che garanzia di tempi di certi di sviluppo i tempi dedicati nel laboratorio e i tempi dell'impresa sono completamente diversi ci vuole uno e mezzo che sappia battere i tempi quindi sappia capire quali sono gli sviluppi tecnologici da qui a 10-15 anni che stanno in laboratorio e sappia metterli al momento giusto a disposizione dell'impresa quando saranno pronti con un orizzonte magari più corto di 2-3 anni questo per esempio è un altro modo di di spiegare che cosa vuol dire una traduzione certo ci sono delle complessità allora quali sono queste complessità allora la complessità è che questa volta dobbiamo essere noi ad andare a cercare fuori le imprese no? perché abbiamo detto proprio per definizione che non stiamo lì a aspettare l'impresa che arriva e allora dov'è che l'andiamo a cercare no? questo è il problema no? dice ma adesso cosa faccio mi vado a cercare anch'io ho fatto un pezzo anch'io di valori di disseminazione quando ho fatto il capoprogetto è difficile pensare per il ruolo che si ha di andare dove? andare in giro a contattare le imprese a che titolo? ecco cioè diventa difficile poi dare una sensatezza a un ruolo magari di ricerca di voglia propria di fare valorizzazione no? cioè qui siamo a caccia di trovarci un'opportunità anche noi un nostro ruolo nel meccanismo allora questo il primo passo è questo per esempio la prima occasione è fare il pitch come è stato suggerito prima perché vi legittima vi autorizza a fare tutta una serie di cose dedicare un po' di tempo a un'analisi di mercato a vedere quali sono le applicazioni per quello che state studiando a capire se ci sono altri che stanno facendo quasi le stesse cose quindi sono competitor vostri sulla tecnologia ecco allora l'andare sul mercato creare una relazione con il mercato vuol dire integrare le competenze che già si hanno di tipo scientifico con competenze anche di tipo economico e relazionale perché bisogna cominciare a parlare altro motivo per fare un pitch perché in un pitch bisogna parlare in pubblico bisogna farsi capire bisogna essere sintetici e quindi sicuramente è una buona palestra per imparare la comunicazione un'ottima palestra prego prego mi dica la domanda però questa è una considerazione è vero che consulenza no l'anno scorso nella tavola rotonda c'era stato un intervento che ho apprezzato perché ha diviso abbastanza in modo lucido la differenza tra l'ambito di attività dello spin off e di un consulente il consulente è un progettista opera nell'ambito del proven solving e basta un'impresa ha un proprio catalogo di servizi esce con quei servizi sul mercato e dà un approccio al mercato teoricamente dovrebbe essere così per questo non c'è cannibalismo tra le due aree cioè si vuole andare proprio a pescare ricchezza laddove già non si pesca con la consulenza se no vabbè chiamatele consulente non so se ho risposto se era questo il punto ma consulente si può sempre farli quindi stiamo parlando di creare una struttura giuridica che riesca a gestire dei numeri delle masse un po' più un po' più importanti e con una ripetitività d'offerta e di servizi e con un rapporto verso i mercati allora l'ultimo punto appunto è la predisposizione al rischio di impresa cioè cosa vuol dire vuol dire che se per esempio vi metteste a fare prodotti è evidente che prima bisogna costruirli bisogna fare degli acquisti sopportare dei costi e poi bisogna puntare i ricavi che vengono dopo quindi questo pone un po' al problema di quanto siamo predisposti ad accettare un rischio non è importante parlare di rischio di persevere quanto rischio vogliamo prenderci anche a fare il professionista si prendono rischi non è non è quello il problema il problema è che tipo di rischio vogliamo prenderci allora come si fa ecco una prima traccia abbiamo due ore di tempo non è che si può fare una lezione sulla via di imprese però ecco diciamo come traccia per capire un po' vabbè ma da dove iniziamo cosa facciamo il primo punto è fare un'esplorazione cioè ma con la mia tecnologia che problemi posso risolvere dove la posso applicare per realizzare un miglioramento ecco quindi la prima attività dovessi essere io insieme a voi in laboratorio vogliamo dire che cosa abbiamo sviluppato di nuovo qual è la novità della nostra ricerca e che problemi nuovi rispetto al passato sappiamo oggi risolvere vedremo che salteranno fuori molti ecco diciamo questo è un modo per superare il tentativo iniziale di dire l'ho pensata per questa soluzione voglio fare un spin off su quella roba lì oppure voglio fare una valorizzazione su quell'ambito lì invece l'invito è ripercorrere insieme tutto il ragionamento e vedere se magari ci sono più ambiti mi è capitato giusto un caso a febbraio scusate magari l'improprietà di linguaggio con cui mi stimeva no però era un ricercatore che operava era di un laboratorio di agraria e si occupava di una nuova molecola un nuovo principio attivo era fissato sull'utilizzo per la tracciabilità alimentare dopo di che si è reso conto che invece poteva avere ricominciando da capo per vedere che cosa fa quella molecola abbiamo visto che ci sono altri tre mercati applicativi per quel tipo di molecola che aveva scoperto e quindi ha detto però non ci ho pensato e per forza perché l'idea è l'ho pensata per quella applicazione lì non esco di lì non penso a quanto mercato c'è attorno invece l'obiettivo è massimizzare il potenziale della mia innovazione e quindi c'è bisogno di fare analisi e analisi e analisi e poi ancora analisi analisi che si può fare in vari modi si può andare ai seminari si può andare a fiere congressi si possono invitare aziende per capire loro cosa ne pensano cioè le modalità sono molte si può fare da soli su una base dati oppure in modo relazionale questo sta al vostro gusto e alla vostra disponibilità di tempo e allo spazio di libertà che avete naturalmente dopodiché uno dice vabbè ho scoperto che potrei generare dei ricavi risolvendo un certo tipo di applicazione beh allora adesso si tratta di dire ma sarà sostenibile allora si entra in una seconda fase che è uno studio di fattibilità in cui il passaggio è da una semplice esplorazione di mercato a una ventilata ipotesi di fare impresa per ora non se ne parla neanche di fare impresa ma come dire ma se domani davvero aprissi una società per fare fattura questo cosa mi comporterebbe ci guadagno o non ci guadagno e a che rischi vado incontro ecco lo studio di fattibilità vuol dire fare queste cose qui quindi bisogna studiare un po' meglio quantitativamente qual è il vantaggio per il cliente potenziare cliente a comprare quanto esteso è il mercato a cui potremmo rivolgersi quali sono i rischi di questi mercati vedere se abbiamo l'organizzazione sufficiente per realizzare la soluzione che abbiamo in mente allora supponiamo che vogliamo fare un nuovo abbiamo scoperto un nuovo circuito elettronico non lo so un nuovo RFID e un conto è vendere l'idea un conto è fare un accordo sulle royalties un conto un conto è sviluppare progetti sulla base della tecnologia che si è sviluppata ma non assolutamente non vendere la tecnologia un conto è proprio produrre ecco sono forme completamente diverse e che richiedono impegno diverso allora dov'è che sta un grande discriminante in questa attività qua bisogna subito distinguere operazioni cosiddette che io chiamo puramente finanziarie o economiche allora per paragone è come se dicessimo quest'anno organizziamo una festa supponiamo di guadagnarci 5.000 euro a testa allora il fare feste non è che è il mio lavoro quindi guadagno quei 5.000 euro lì e basta poi torno a fare il mio se invece dico guarda però mi sono bravo lo faccio diventare il mio lavoro allora diventa un'attività proprio economica perché dura nel tempo e lì è la nascita dell'impresa allora quando voi volete pensare a un qualche cosa che diventa la vostra attività prevalente lo state pensando davvero a fare impresa e bisogna cominciare a pensare nel tempo come reggere questa attività perché diventa il vostro lavoro se invece si tratta solo di guadagnare è solo operazione finanziaria nel senso che sarà il lavoro di un altro quello di produzione di commercializzazione di marketing voi semplicemente avete delle royalties sulle vendite che farà un'altra persona ma il vostro lavoro potrebbe rimanere quello di ricercatore allora bisogna avere già una buona consapevolezza su come vogliamo affrontare il discorso innovazione da questo punto di vista ovviamente il discorso è molto più complicato adesso mettiamo giù le basi di ragionamento poi richiederà ben altri approfondimenti però l'importante è che abbiate ben presente che dopo aver capito semplicemente tecnicamente che tipo di problemi sappiamo risolvere dopo bisogna passare a un'analisi un po' economica dire ma allora quanti ricavi quanti costi qual è il guadagno perché poi il commercialista ci dice allora bilancio qual è le fatture quali sono e dopo lì non è che possiamo dirgli ma sto costa risolvere questo problema quello gli vuole numeri allora finita questa fase che è tipicamente quella di scrittura di un business plan che vuol dire quantificare il business in numeri nel tempo poi arriva il momento della consegna basta del business plan è questo che si fa prima o poi il business plan si finisce e allora in quel momento si si riunisce e si dice si fa o non si fa ecco allora lì entrano altre dinamiche che erano quelle che abbiamo detto prima cioè posso avere anche un buon guadagno bisogna vedere se io sono disponibile e disposto a sopportare i rischi perché perché magari ho dei buoni ricavi ma per generare quei ricavi devi sostenere dei costi quei costi vanno anticipati con del capitale ecco allora poi vediamo come affrontarlo allora c'è l'investitore benissimo ma non è che perché c'è l'investitore il rischio di impresa è sparito intendiamoci ecco per cui diciamo c'è una buona fase in cui non essendoci costo non c'è nessun esborso se no vabbè qualche scematta di 100 euro per qualche cosa ecco di utenza però sostanzialmente c'è una prima fase che non ha costi che consiglierei a tutti di provare quantomeno perché è un'esperienza vuol dire mettersi alla prova per vedere se arriviamo a dimostrare che dal know-how si può generare ricchezza soldi su un conto corrente tanto per essere chiari perché finché non arrivano soldi su un conto corrente quel know-how lì non vale meno va bene e tenete conto che questi soldi non vengono dallo spazio vengono da un cliente che è felice di aver comperato la vostra soluzione quindi bisogna trovarlo e bisogna trovarne uno che è interessato all'acquisto della vostra proposta di dire grazie che ci sei perché mi hai risolto questo problema e noi l'avevamo pensato anche prima ecco allora la via di impresa è la fase dove iniziano i costi perché perché a un certo punto quando si è deciso si è deciso si va da notario si fa la società e si parte e si parte a lavorare lasciamo perdere l'accelerazione vediamo un po' in analisi la cosa si fa nell'esplorazione si fa un'indagine su diversi contesti applicativi cioè bisogna andare al nocciolo della nostra innovazione vedere cosa c'ha di nuovo di migliorativo e vedere dove si può applicare per esempio in quel caso che dicevo prima i miglioramenti erano nell'ambito alimentare nell'ambito del miglioramento del cioè rallentava l'invecchiamento della pelle e in ambito metabolico perché mi sembra che aiutava l'immagrimento se non mi sbaglio quindi ambiti completamente diversi ma scientificamente lui sapeva dimostrare questo ricercatore che c'era la risoluzione di un problema caso applicativo dopodiché gli dice vabbè ma e com'è che mi faccio pagare e allora lì l'idea poteva essere quella del prevetto oppure siccome lui vuole fare l'imprenditore ma io che cosa posso fare mica posso fare molecole io beh allora si trattava di individuare un modo per partecipare come interlocutore imprenditoriale il modo che lui ha trovato è stato quello di offrire una particolarizzazione per lo specifico contesto di utilizzo del suo partner cioè il partner nell'ambito per esempio nell'alimentare aveva vari tipi di alimenti per ogni elemento ovviamente bisogna declinare la tecnologia in un determinato modo lui si faceva pagare per il progetto di applicazione per esempio allora da qui è venuto fuori una buona proposta è questione di pochi giorni fa che siamo andati al consolato di Milano perché si è accorto che i capitali sono particolarmente interessanti i ricavi scusate i ricavi sono particolarmente interessanti bisogna vedere lato costi cosa comporterà perché per fare quel tipo di attività che hai in mente bisogna per vari motivi posizionarsi nel Regno Unito allora capito che c'era del potenziale ragionando solo in modo tecnico è passato andare più nel dettaglio dell'aspetto di sviluppo di business plan e quindi si è dovuto mettere lì capire prendere l'indice del business plan mi sembra che ne avrete già parlato ampiamente quindi sapete benissimo che un business plan è fatto di tanti capitoli seguendo l'indice utilizzato dallo schema di business plan a livello regionale primo capitolo dedicato al prodotto qual è cosa offriamo qual è l'offerta il mercato poi la strategia per raggiungere il cliente e per la strategia per differenziarsi dalla concorrenza organizzazione e poi ricavi meno costi quindi bisogna capire ed essere ben sicuri che in un caso ben preciso risolve un problema economicamente ha un ritorno economico positivo per il cliente e per me perché il cliente risolve il suo problema e ci guadagna io ci guadagno vendendogli la soluzione quindi è sottile per tutti e due questo si fa ovviamente con una valutazione o personale o fatta da terzi e quindi bisogna fare una cosiddetta due diligence che accrediti la bontà tecnica di quello che stiamo affermando poi bisogna capire quanto quanti sono questi clienti iniziali capire a quali costi andiamo incontro e cominciare a prendere qualcuno a spot nei vari ambiti qualche impresa potenziale cliente e tentare un avvicinamento e dire ma se dovessi aprire la società ci stai? cominciamo a parlare un po' di business ecco preaccordi no? almeno non è che li obbligate a comprare subito ma è per capire nel caso ci fosse questa offerta vi interesserebbe? ecco il caso è ovvio che tutto questo poi si trasforma in attività operative quando poi si fa la società davvero no? allora riprendiamo quello che ci siamo dati prima bisogna se vogliamo fare una richiesta di investimento bisogna presentare il business per il investitore bisogna che tutti i soci condividano l'analisi di rischi ed opportunità ecco ricordiamoci sempre che ci sono i rischi ma ci sono anche le opportunità da cogliere ecco il bilanciamento che conta si crea la società e si fa l'avvio delle attività rischio di impresa allora quello che tanto vogliamo sono quelli i ricavi il problema è che ahimè prima di girare bisogna creare il prodotto creare l'offerta pagare i dipendenti pagarsi noi insomma no il problema è che ahimè vengono prima quindi bisogna sborsare prima i soldi per i costi facendo degli investimenti è il rischio tutto lì perché i costi i costi sono certi i ricavi sono stimabili o incerti quindi immaginatevi dopo magari approfondiamo i prossimi slide l'investitore quanto sarà preoccupato di mettere i soldi perché i soldi che mette l'investitore spariscono alla velocità della luce perché bisogna pagare soprattutto se non si è fatta una buona analisi dei costi che bisogna sostenere sono sicuramente di più e poi sono finiti i soldi quindi sono finiti i soldi poi che si fa? allora parliamo di ricerca di finanziamenti allora l'ambito della ricerca dei finanziamenti è un mondo che bisogna avvicinare gradualmente mi rendo conto che magari per chi lavora solo in un ambito tecnico è difficile già cominciare a parlare di aspetti finanziari economico-finanziali però bisogna già cominciare a capire alcune logiche allora la logica con cui si approcciano queste modalità diverse di investimento dipendono da quanti soldi abbiamo bisogno perché se sono pochi ce la possiamo anche cavare da soli se sono pochi se sono cominciano a essere un po' tantini è ovvio che non ce la possiamo fare più e allora che si fa? si comincia ad andare alla banca la banca dice vabbè io ti do 50.000 euro se tu hai 50.000 euro grazie sono buoni tutti no? d'altra parte la logica mi potrei anche confermare no? è così quindi che si fa? bisogna ricorrere ad altri metodi allora se non ci si arriva nemmeno con gli amici e con la famiglia ricordiamoci che questa è l'impresa nostra è la vita che vogliamo crearsi noi nella vita operativa di domani il nostro lavoro e quindi stiamo mettendo delle risorse investendo su di noi quindi primi a essere interessati siamo noi l'investitore la prima cosa che vuol vedere è vedere una persona che lui stesso crede nella sua idea quindi chiederà ma tu cosa ci metti in questa proposta quanto ci spendi di tuo non pretende di più di quello che possiamo è diverso dal rapporto della banca la banca ragiona con le garanzie appunto basta l'investitore vuol vedere una forte determinazione 5-6 anni fa mi capitava ancora degli incontri surreali in cui c'era un docente che diceva c'è una grande idea bellissima idea abbiamo bisogno di 6 milioni di euro no 6 milioni di euro perché erano ancora sì l'investitore diceva ma chi è che lavora qua ah no io no ma come io no non lavora lei avevano persuasi che loro mettevano l'idea e gli altri lavoravano però volevano la resa non ci siamo proprio ovviamente questo è perché c'è voluto un po' di tempo per capire i meccanismi tutti adesso le cose sono completamente diverse sono cambiate maledettamente quindi non si ragionerà sicuramente più in quel modo però sicuramente rimane il problema del dire sono davanti l'investitore dirà sono davanti a un business efficace in cui veramente si può credere che domani vengano fuori dei ricavi o no e questa è la domanda che lo perseguita e poi sapendo che 9 volte su 10 va male perché perderai sui soldi per lui non pone delle garanzie per cui scommette diventa socio con voi e poi poi se va male si dichiara si manda in liquidazione nella società e basta quindi deve cercare di trovare dei business dove si guadagna il più possibile per ripienare le perdite degli altri nuovi casi andati male allora si chiama capitale di rischio appunto perché fa riferimento a una modalità di investimento di conferimento di capitale nel capitale netto della società non so se questi argomenti diciamo c'è una forma giuridica di società di capitali in cui la compagine è divisa fra più soci ognuno mette una quota l'investitore diventa anche lui socio e mette anche una quota di capitale l'obiettivo è quello che l'impresa dopo un certo numero di anni valga molto ma molto di più e l'investitore esce con una quota decisamente più alta che all'inizio questo è la logica e l'aspettativa dell'investitore quindi un investitore che magari mette dentro 100.000 euro 200.000 euro un milione non dovete ragionare con l'idea della banca quindi al tasso non è questione del tasso è proprio la scommessa uno mette 100.000 euro per tirarne fuori 500.000 magari perché ragionano così ecco poi uno non è che il medico ci ha detto di andare da loro però diciamo la loro logica è questa è mettere dentro un capitale e cercare di moltiplicarlo allora gli investitori in capitali di rischio sono di due tipi ci sono investitori cosiddetti informali sono informali perché non sono delle strutture giuridiche non sono delle società sono delle persone che hanno del capitale hanno un'esperienza magari molto profonda in aspetti di mercato o tecnologici e hanno piacere a fare società con degli innovatori con dei ricercatori validi brevillanti con cui iniziare un'avventura di impresa allora questi perché vengono detti appunto informali perché non non agiscono secondo una logica molto strutturata tipicamente diventano soci e è sottinteso che cominciano a voler fare gestione di impresa cominciano a ingerire hands on cioè cercano si dà per scontato da parte loro che si comincia a lavorare insieme a cercare insieme i clienti a fare sviluppo con una gestione coinvolgente anche da parte sua l'entità ecco varia orientativamente tra 50 e 200 mila euro orientativamente esiste un'associazione italiana che ha definito delle best practices di comportamento che si chiama Italian Business Angel Network che è coordinata da Maurizio Tommaso Cautorta che è stato qui anche l'anno scorso probabilmente verrà anche quest'anno il modo per approcciare questo questo canale è semplicissimo se va sul sito dell'Iban si scaricano i moduli e si comincia a fare domanda non è neanche difficile a questo punto di vista oppure quando viene qua lo fermate e glielo chiedete se potete mandargli un piano di business poi lui vi dirigerà verso l'investitore che ritiene più opportuno c'è la forma europea che è l'Iban European Business Network naturalmente allora invece i venture capitalists sono delle società strutturate prendiamo per esempio la Sici che sta a Firenze sono figure con un'altra specializzazione finanziaria quindi il loro apporto non è nella capacità di gestione di imprese non potete chiedergli su quale mercato è meglio andare come comportarsi con un certo cliente loro fanno semplicemente una valutazione di tipo finanziario del vostro del vostro business ecco allora qui l'impegno è più importante perché minimo minimo si parte da 200.000 euro ma più facilmente da 500.000 e si va su qualche milione poi ci sono le grandi società di investimento ma quelle sono ancora più per capitale ancora più grandi i tempi per definire un rapporto se fate domanda adesso si sta che magari ci vogliono 8-9 mesi perché prendono il business plan lo guardano fanno una prima valutazione e una prima scrematura poi pensate a una seconda fase di valutazione ci saranno mille elementi che vogliono valutare meglio e richiedono tempo richiedono una valutazione più approfondita richiedono tutto quel tempo che magari non è stato dedicato prima alla perfezionamento del business plan del business plan quando si richiedono dei soldi oggi con un'attesa a tre anni bisogna avere già in mente più o meno a chi si va a vendere cioè bisogna avere un po' l'idea di quanti ricavi si potrebbero fare quindi bisogna dire va io con due tre clienti con un'offerta con un'entità d'offerta di questo tipo riesco a ripagare l'investimento iniziale ecco bisogna arrivare a un livello di relazione abbastanza importante naturalmente anche i capitali che si chiedono sono importanti per cui è naturale che richiedano questi impegni questa granularità così elevata allora le caratteristiche di un investitore le ho rassunte qui facendo un paragone fra i due ambiti allora non chiedono garanzie ma vogliono vedere il business plan allora primo accenno per esempio su quanto riferisce per esempio la SICI di Firenze non bisogna avere tanta preoccupazione di essere precisi esatti nel definire fra cinque anni quanto guadagneremo questo non è non ha detto anche chiaramente lo vogliono un conto economico vogliono vedere una profilazione di ricavi e di costi però vogliono capire esattamente dove create beneficio per il cliente cioè la cosa su cui sono molto attenti è quella di verificare dove c'è un guadagno è un interesse da parte del cliente di quello che compera e questo va dimostrato io vedo tanti business plan per carità all'inizio è naturale che siano così tipicamente si scrive il cliente ne avrà un gran beneficio e grande cosa vuol dire? il problema è che grande vuol dire pochissimo no? non è è una cosa troppo soggettiva dire grande dove sta il problema il problema è che magari noi abbiamo anche valutato economicamente quantitativamente che c'è un risparmio per esempio per il cliente ma supponiamo che c'è un cliente che teoricamente ecco il guadagno è che ne so di 100 euro al mese non è importante il problema è che poi quando gli forniamo la lista di potenziali clienti a cui vorremmo rivolgersi scopriamo che quei clienti hanno una perdita di 1000 euro al mese allora l'innovazione che gli portiamo cala di interesse evidentemente cioè il problema è anche quanto forte è il bisogno per il cliente perché se il bisogno è basso è limitato è marginale le possibilità di vendita di arrivare veramente a stabilire un rapporto con il cliente sono molto modeste i tempi si allungano sono distratti ci vogliono nove mesi per definire un accordo il problema è che il conferimento di soldi è a tempo per quelli ce li danno per tre anni e dopo tre anni li vogliono perché l'accordo prevede tre anni di collaborazione ecco allora io personalmente apprezzo molto per esempio il rapporto della Camera di Commercio di Piso non penso di fare una concorrenza sleare nominandola perché la prima difesa che fanno verso il proponente è proprio essere rigidi e duri per quello che è la mia visibilità naturalmente ma subito nella fase iniziale cioè tentano di scremare il più possibile e paradossalmente di essere molto selettivi essere molto rigidi nell'approvazione delle domande perché dopo quando si è partiti si è partiti dopo quando il capitale è stato messo dopo i giochi bisogna bisogna farli allora meglio ricevere un rigetto subito con la possibilità di ripresentarlo magari una volta studiato meglio che dopo trovarsi nelle grane perché si è fatta delle spese e i ricavi non sono usciti perché spesso giustamente andiamo a decantare il nostro business plan dicendo che è un business plan grande faremo un sacco di soldi mancherebbe altro che non facessimo così cioè non potete andare a un pc dicendo ma non so se guadagnerò il cliente è un po' in dubbio è ovvio che bisogna spendersi no? bene certo bisogna essere consapevoli bisogna avere un po' più di basi di certezza che il cliente davvero è interessato in modo motivato e convinto è forte all'acquisto poi c'è un altro problema è la difendibilità la difendibilità della vostra proposta perché in un business plan ci può essere una bellissima innovazione fate un miglioramento bellissimo peccato che ve lo capino il giorno dopo se non avete previsto un modo per difendervi attenzione anche qui un piccolo dettaglio non so se ne avete già parlato o meno ditemi se ne avete già parlato così passo oltre ma spesso uno dice vabbè ma io faccio il brevetto e poi che che lo difende lo difendo io davanti a un'impresa grande quello lì mi fa le pernacchie voglio mandargli l'avvocato il problema è che l'interesse è per chi chi entra col capitale lui sì che lo potrebbe usare quell'arma lì quindi la gestione della propria intellettuale è comunque strategica ed importante ed è il motivo per cui tutti gli investitori chiedono se è stata pensata questa forma di protezione del know-how altra cosa è capire se sappiamo comunicare dove sta l'innovazione dove sta il miglioramento della nostra innovazione perché spesso magari l'innovazione c'è ma leggendo il business plan non si riesce andarla a individuare non si capisce dov'è l'elemento di modernità di salto che voi state introducendo non si può dire il mio business plan è innovativo ho una soluzione bisogna dire qual è qual è l'elemento che rappresenta una singolarità rispetto al passato c'è un paragrafo opposta nel capitolo 1 c'è il contenuto innovativo della soluzione se avete usato quello schema lì e lì va detto in modo molto molto definito e preciso dove vi distinguete dagli altri tra l'altro non commettendo l'errore di dire noi siamo innovativi gli altri no che cosa vuol dire cioè tanti possono essere innovativi si possono essere innovativi in modo diverso vorrà dire che la mia innovazione che mi rende unico l'unico capace a risolvere un certo problema mi permetterà di vendere io da solo in una determinata area e quell'altro no perché quell'altro non ha quella soluzione quell'altro venderà in un'altra area solo lui se volete approfondire questi discorsi questi concetti di strategia competitiva leggetevi un po' di Schumpeter presente sull'ambito del monopolio temporaneo perché il problema davvero è vado sul mercato il giorno dopo mi trovo già concorrente e tutte le mie prospettive di guadagno e comincio a dividere già per due per tre per dieci magari ecco magari per chi fa software c'è il problema del dire ma non posso proteggerlo o con grande difficoltà perché si può proteggere magari solo il modello di utilità di applicazione il caso allora il segreto è essere rapidi allora tutta la strategia del business plan sarà incentrata sul dire come velocemente arriverò a coprire il mio mercato quando ci sono io poi dirò e c'è già lui quindi create proprio una deterrenza col fatto che vi siete fatti le vostre alleanze siete quelli riconosciuti come il risolutore di quel problema e non permettete ovviamente ad altri poi di arrivare perché siete arrivati prima voi quindi è una strategia proprio basata sulla velocità questo è il motivo per cui per esempio crescono così tanto i soldi cioè spesso uno dice ma io non ho bisogno di tanti soldi per fare la mia soluzione certo per fare la cosa dal punto di vista tecnico non servono molto ma dal punto di vista commerciale possono essere elevatissimi i costi perché se rapidamente devo arrivare sul mercato devo mettere in campo molte forze in parallelo devo farmi aiutare parallelamente da tante persone cosa faccio vado in time sharing e dedico un secondo per ogni agente cioè non è possibile ci vuole una struttura un'organizzazione bisogna pagare le persone e quindi sono costi spesso i costi commerciali vengono totalmente disattiviti in business plan non ci si rende conto che andare sul mercato ha dei costi perché ci vuole tempo ci vogliono persone e le persone vanno pagate allora le banche a differenza degli investitori in capitale di rischio agiscono semplicemente per garanzia cioè voi date impegno una garanzia un'ipoteca su un certo bene e loro vi danno i soldi ovviamente ragionano in base a un tasso di interesse e cominciate a tastare con mano cosa vuol dire forse un luogo comune non lo so il concetto è che spesso il valutatore bancario non è in grado di capire qual è la potenzialità della vostra tecnologia quello lì vuole semplicemente vedere quanto potete garantire e in cambio di quello vi dà i soldi ma non entrerà mai in una logica di business ecco qua allora c'è un accenno un'eccezione a questo che è quando si fanno investimenti congiunti cioè tipicamente se avete se volete fare una proposta alla Camera di Commercio potreste dire che parte del capitale per le spese più a rischio le coprite con il capitale che vi dà la Camera di Commercio le spese per attrezzature ma comunque per beni materiali le coprite con la copertura della banca per esempio quindi non è che si va o dall'uno o dall'altro si può benissimo anzi è molto più felice della Camera di Commercio se c'è anche un secondo investitore naturalmente la banca è protetta ed è più disposta ad aiutarvi se la società è capitalizzata per cui prima aspetta che entri nella Camera di Commercio che ci sia un buon capitale nella società e poi interviene anche la banca questi per esempio sono motivi virtuosi per cui ha un gran valore aggiunto il ruolo della Camera di Commercio come investitore io l'ho già detto l'unica cosa che chiedono sicuramente vogliono leggere il business plan le dico attualmente c'è un imprenditore che sta facendo domanda per un finanziamento in capitale di rischio e contestualmente anche la banca ha avvisato la banca che sta facendo l'investimento sta facendo una richiesta a un investitore e la banca ha detto va bene faccia vedere il business plan prima di tutto quindi vuoi capire di che cosa si parla e poi valutiamo per che cosa pensa di usare i soldi della banca quindi la banca bisogna prevedere degli oneri finanziari per ripagare il costo del denaro della banca e in che tempi dimostrando per esempio che avete dei clienti che comunque magari la Camera è disposta a sostenere il costo insomma nelle varie forme no era solo questo banalmente si parte da lì ecco a seconda delle relazioni che avete allora vi faccio l'esempio nel caso che sto trattando attualmente per ora non ha molto senso aprire un rapporto con tantissimi soggetti un po' perché porta via tempo molto e il tempo adesso è poco e un po' perché essendo una struttura che ha un buon rapporto con certi soggetti bancari è ovvio che il primo a cui si va è il partner della struttura in cui siamo ospitati adesso evidentemente quindi c'è una volta si scelgono anche strategicamente dei partner per lo start up perché loro hanno il rapporto con le banche e loro facilitano il rapporto con la banca ecco cominciamo da dalle relazioni più facili dopo andremo sulle parti più difficili poi ci sono banche che fanno tutte e due le cose hanno sia il fondo di capitali di rischio che il fondo bancario normale quindi insomma dipende dall'opportunità anche temporali che si creano ecco dipende dalle relazioni che si hanno allora in questa slide qua è un po' imprecisa però è solo per darvi un po' il senso del come tentare di selezionare il capitale che possiamo intercettare allora quando siamo in laboratorio che sviluppiamo un'attività di ricerca che non ha nessuna garanzia di raggiungere un risultato perché sappiamo che se facciamo una ricerca non sappiamo dove arriviamo per definizione allora non può essere altro che un sostegno pubblico perché quale mai privato potrebbe per me imprese private se non gigantesca si può permettere di sostenere una ricerca così ad alto rischio e questo riguarda la parte di sinistra ho messo anche inventore perché l'inventore crede lui nella sua idea e ci mette lui i suoi soldi banalmente quindi difficilmente di qua a sinistra avremo l'aiuto di una banca o di un investitore anzi spesso vi devo dire che l'investitore comincia a così a mostrare attenzione quando gli fate vedere per esempio una prima vendita il momento migliore con cui si crea un sodalizio con l'investitore è nel momento dell'accelerazione proprio dell'impresa cioè in quel momento in cui c'è già un primo cliente che dimostra che ha un senso di mercato quel prodotto e si tratta semplicemente di pompare il mercato andare solo con l'idea da un investitore è facile direi proprio di no zero zero lo fanno nel biotech si fa per le molecole si va ancora ma in altri ambiti veramente io io personalmente non ho casi di questo tipo ecco se proprio non si ha il prodotto magari si ha il cliente che è sicuro che voi ce la fate è disposto a sottoscrivere che darebbe i soldi nel caso che venisse finito il progetto allora quello può diventare una forma di garanzia anche quella magari magari allora dall'altra parte è il caso delle imprese mature cioè dopo un po' che siete sul mercato che vi siete fatte una reputazione quando sarete dei grandi imprenditori tecnologici high tech avrete una vostra squadra di 15 ricercatori avrete un buon rapporto con tutti i laboratori di ricerca dell'università e di altro e un rapporto con le banche è normale e la banca gli darà i soldi per cui di qua non ci saranno problemi il problema è quel burrone lì in mezzo il burrone lì in mezzo dove c'è lo start up dove c'è proprio la partenza ed è il momento più critico perché da una parte i fondi pubblici non ci sono più perché diventerebbe aiuto di stato perché fa aiutare un'operazione commerciale e questo non è possibile perché ci si ferma il precompetitivo dopo vediamo anche un po' come arrangiarci eh però d'altra parte i soldi non possiamo chiedere i soldi per sviluppare una rete commerciale non ce li danno perché aiuterebbero perché voi non un altro ecco no cioè diventa un problema proprio di competizione sul mercato allora lì prego bisogna vedere di volte in volte i bandi che ci sono bisogna è molto dipendente dal tipo di di bando che c'è ecco bisogna vedere ci sono anche magari non in tutte le aree d'Italia ma ci sono forme di sostegno di nuovo allora dunque io il discorso l'ho focalizzato su imprese ad alta redditività quindi imprese che hanno l'obiettivo di guadagnare tanto non perché ci sia abitità dietro ma perché tipicamente sono business che o veramente si guadagna tanto altrimenti c'è il fallimento le onus è un ragionamento a parte è un ragionamento un po' diverso a me è capitato in alcuni casi di intercettare delle idee legate a questa forma di attività ma sono altri canali non è che non ci sono ci sono canali ma sono canali completamente diversi cioè attenzione adesso bisogna vedere da dove viene fuori la radice poi di caso in caso bisogna vedere adesso mi permetto ma guardi solo per per pregiudizio perché non mi è capitato due o tre volte non vorrei che l'onus diventa solo un modo per dire no ma io sono umile non voglio guadagnare tanto perché non ha senso cioè lo sforzo da fare è dire abbiamo speso una barca di soldi a creare l'università gli incubatori le strutture di ricerca adesso se quei soldi si sono trasformati in strutture quelle strutture devono ridare indietro capitale cioè l'attesa è che tutte le spese che noi abbiamo sostenuto come privati cittadini perché noi siamo lavoratori ma siamo anche privati cittadini che paghiamo le tasse allora la nostra noi perché paghiamo le tasse con la fiducia che questo creerà un vantaggio per la nostra nazione e questo è il punto di base di partenza cioè bisogna capire che tutti gli investimenti anche lo stesso edificio in cui siamo sono la scommessa del farcela che col know-how si crea business e si ricomincia ad avere di nuovo competitività fuori di lì poi si possono aprire moltissimi altri discorsi cioè il discorso ha una sua dignità ma afferisce a dinamiche completamente diverse mi bisognerebbe vedere nel caso particolare è troppo difficile si ma non hanno la logica dell'investitore in capitale di rischio non è non è sono due logiche molto diverse guardi dopo le affrontiamo insieme dopo vediamo ma non è sono logiche veramente che hanno un impatto diverso ecco quindi comunque teniamo almeno il discorso su dei modelli semplici per il momento prendiamo la tipica SRL che parte con pochi capitali 10.000 euro iniziali e vuole tentare di fare delle vendite con alti volumi ecco dopo discorsi più complessi si potranno che fare allora vi volevo dire una cosa se non mi ricordo più su questo grafico ah dunque il certe volte l'investitore vuole vedere una perdita iniziale cioè il spesso l'investitore dice ma io perché perché mi sei venuto a cercare perché hai bisogno di me allora si può dirglielo perché abbiamo bisogno di soldi punto oppure si può farlo vedere numericamente facendo vedere che all'inizio ci sono dei costi che da soli non potremmo sostenere noi quello che possiamo fare l'abbiamo fatto quindi dimostrando una determinazione e una buona volontà nell'avere affrontato il problema e dire guarda che per raggiungere quei ricavi così grandi ci vogliono questi costi e non posso neanche abbassare troppo quelle attese perché se limito troppo la velocità di espansione va a finire che dopo non non prendo neanche il mercato allora questa è una logica molto razionale che incentiva l'investitore perché l'investitore capisce che partendo da A si arriva a B e c'è un rapporto causale tra il motivo di mettere i soldi sopportare certe spese e arrivare a certi risultati di mercato questo è il punto vero poi al di là di queste cose che vi confesso che anch'io all'inizio quando ho iniziato ad avvicinarmi al problema dell'innovazione a me la finanza non è che mi piacesse trovo perché con tutti gli ingegneri vogliono risolvere problemi problemi tecnici e poi vabbè insomma si sarà anche la finanza il problema è che ahimè l'innovazione per l'investitore è bella in funzione del fatto che moltiplicano i loro soldi se no per loro l'innovazione non cotta niente e questo è il problema cioè bisogna capire che loro hanno una certa mission e noi ne abbiamo un'altra noi più prevalentemente probabilmente vogliamo crearci una società il nostro lavoro futuro sull'attività che vogliamo fare dobbiamo fare lo sforzo di spostarci da un aspetto tecnico a una gestione un po' economica dall'altra parte l'unico motivo per interessarsi dell'innovazione è che lo vedono come un moltiplicatore dei loro soldi per cui loro al di là di tutte le cose che vorrete raccontarvi a questi signori loro vogliono sapere vogliono cercare di capire o di prevedere di stimare con quanti soldi entrano in un certo momento e con quanti soldi escono in un altro momento perché finanze sono solo due cose tempo e soldi e basta il resto per loro sono chiacchiere purtroppo o per fortunoso però ci abituano a una razionalità nei numeri purtroppo il rapporto con queste persone è in questi termini altrimenti c'è sempre la strada di gestirsi autonomamente quella è sempre aperta naturalmente quindi non è che per forza bisogna andare da un investitore si va quando ci sono delle ragioni per farlo naturalmente avete capito tutti o c'è qualche cosa che ditemi veramente anzi ringrazio chi ha fatto domande perché mi aiuta ad avere un minimo interlocuzione c'è qualcuno che ha un'idea per esempio anche ragionare su una proposta ditemi un po' che è che sta pensando a fare una valorizzazione di qualche tipo nessuno non vi sbilanciate c'è qualche laboratorio che ha già creato uno spin off qua dentro nessuno niente che ingegneri nessuno ah che spin off ah caspita sì sì altri ecco una cosa che vediamo un po' vi anticipo un attimo un contenuto dell'ultima slide allora quando si parla di innovazione tutti si è coinvolti cioè non è a me non mi riguarda ma io sono ancora studente io sono ricercatore tutti possono dare un contributo come? adesso vi dico per esempio sfruttiamo i punti le posizioni di vantaggio competitivo che abbiamo quali? boh allora nella media se uno è giovane tipicamente ha più tempo di persone che già magari sono hanno già una decina di anni di esperienza 20 anni di esperienza hanno tante responsabilità continuano a correre devono gestire e non hanno mai il tempo di fermarsi a pianificare a ragionare a approfondire argomenti che vorrebbero approfondire ma non c'è più il tempo quindi la dimensione tempo è una ricchezza importantissima se ce l'avete rendetevi conto che è una ricchezza veramente importante secondo siete aggiornati allo stato dell'arte della tecnologia le imprese no perché non ce la fanno più sono lì a ricorrere le banche a pregare di non chiudere altro elemento poi per molti versi l'ambito universitario è più facilitato nell'intercettazione di fondi per l'innovazione a differenza delle imprese allora questo può diventare una buona merce di scambio con l'impresa in che senso nel senso che voi adesso avete una posizione all'interno delle università temporanea definitiva non lo so ecco dipende caso in caso questa posizione vi dà la possibilità di scrivere progetti vi dà la possibilità di coinvolgere imprese vi dà la possibilità di allocare dei fondi per determinate attività allora l'invito da parte mia è quello di da domani dire va bene da domani provo a fare diverso che cosa supponiamo che volete impegnarvi un po' di più sull'innovazione e supponete che volete aiutare di più come lavoratori proprio come i ricercatori non come imprenditori volete aiutare di più il prossimo futuro spin off o lo spin off che c'è già come posso essere io ad aiutare lo spin off a guadagnare di più per esempio o a fare meglio il suo lavoro anticipando i costi per esempio cioè certe volte un po' per abitudine una distrazione quando si scrive nei progetti non si prevede mai per esempio un mini task di analisi di mercato un po' di soldi per fare un po' di analisi un po' di tempo per fare dell'analisi un po' di tempo per farsi conoscere delle imprese non si spende mai del tempo per cercare perché è sempre lo stesso fornitore perché è sempre la stessa azienda perché non sfruttare l'occasione di poter scrivere progetti per tirare dentro a rotazione più imprese è un modo per creare più network no? non siamo quelli che scriviamo il progetto potete essere i segnalatori i suggeritori cioè vorrei dire non ci avete scampo se volete fare innovazione non ci sono scuse ognuno ha un pezzo di ruolo basta saperlo volerlo fare e non è questione o sì o no è tutto un rischio o non un rischio semplicemente ricordarsi appena prima di un progetto di dire al docente di riferimento o al ricercatore di riferimento ma perché non proviamo? è una forma propositiva no? cosa avete rischiato? però un domani dite io il mio contributo poco l'ho dato lì invece che dire ho tutto o niente perché ho tutto o niente? nella misura del ruolo che ricopriamo naturalmente no? per dire una visita di più in fiera un approfondimento di più su un'impresa una lettura di più sabato mattina su qualche rivista per capire se la vostra tecnologia può essere applicata per risolvere quel problema specifico una telefonata in più un'impresa per invitarli quando fate un seminario qui cioè se uno si vede un po' da fare si rimbocca le maniche vede che il suo spazio di azione per creare innovazione lo trova proprio perché quando lo spin off arriverà in quel burrone lì se ci arriva con un quasi prodotto vi dirà tanto grazie e potrebbe essere anche un vostro prego interessato nel senso che voi avete fatto anche magari un accordo di dire guarda io ti anticipo i costi però dopo quando arriverai se e quando arriverai sul mercato o siamo d'accordo che parte dei proventi ritornano sono forme di accordo che bisogna magari preventivare dove è un vantaggio il vantaggio è che potremmo avere il computer in più che non avevamo possiamo dare più continuità alla nostra permanenza nel laboratorio perché ci caviamo una borsa in più sento sempre dire che siete in giro per il mondo quindi anche il problema di stabilire una relazione fuori d'Italia forse non c'è ecco non è neanche quella più una scusa insomma per cui diciamo un primo modo per iniziare a cambiare le cose è pensare alla cosiddetta innovazione continua cioè un modo sistematico tutti gli anni per dire come reimposto la mia attività di innovazione di supporto all'innovazione che potrebbe essere svolta o dal mio partner industriale dalla mia impresa oppure dallo spin off però non potete esimervi dal dire no ma io non c'entro niente con l'innovazione perché magari l'impresa non riesce a fare l'innovazione perché non è stata messa in grado di fare la valorizzazione questo è il punto ditemi eh cioè obiezioni sono bene bene accette insomma avete mai chi è che ha esperienza con l'impresa rapporti qualche tipo tramite il laboratorio naturalmente siete tutti ricercatori due gli altri cosa siete campione che ruolo ricoprite studenti PCD siete tutti PCD dottor Andil ah ok eh certo ecco per esempio un'altra cosa che così suggerirei di di meditare è la questione dei tempi allora il terzo anno del PSD è quello terribile bisogna bisogna fare la tesi la testa lì non c'è il primo anno si comincia a capire com'è il mondo l'anno d'oro è il secondo no quando si comincia un po' a dire ma potrei mettere le basi per una valorizzazione allora io un po' sono contento quando uno del secondo anno magari si avvicina a questi argomenti mi dispiace un po' quando quelli del primo anno dicono non è troppo presto perché se non si sa dove andare e si aspetta l'ultimo momento poi è troppo tardi non si può pensare al terzo anno di fare una valorizzazione del lavoro svolto negli ultimi tre anni perché è troppo tardi cioè le relazioni vanno create man mano il percorso innovativo deve essere parallelo al discorso di ricerca perché è il contributo dell'impresa che ci dice rimanendo autonomi indipendenti non è che l'impresa deve condizionare ma l'impresa comunque esprime un suo parere ognuno sta a casa sua però almeno sapete cosa pensa almeno per esempio un altro problema grossissimo è che più la tecnologia è complessa è più difficile da capire evidentemente e l'imprenditore che si vede arrivare a una tecnologia gli si dice guarda funziona perfettamente ti risolve il problema e comunque lui non compra ma perché? e perché? perché non lo capisce allora ha due possibilità o si fida o non si fida così ma perché siete voi eh? allora quel tipo di fiducia lì bisognava costruirla ci vorrà del tempo allora per far esattamente come un rapporto di coppia cioè non si può di colpo creare la relazione c'è un momento conoscitivo dovete voi conoscere e farvi conoscere allora questa fase qui richiede tempo e non si può comprimerla più che tanto l'aspetto relazionale è la base nell'innovazione perché è molto basato sulla fiducia cioè la controparte fino a un certo punto capisce gli aspetti di contenuto tecnologico di cui parlate forse solo per il semplice motivo che insomma se deve lui rileggersi tutto allora se lo fa lui quindi a un certo punto deve scattare l'economia di tempo e scatta proprio nel fatto che si basa sulla fiducia ma quella fiducia va costruita va guadagnata quindi uno all'inizio si trova davanti a un percorso di ricerca applicata io comincerai subito a pensare ma fra tre anni che sbocco tre anni volano la velocità della luce cioè forse voi non vi rendete ancora conto ma più si va avanti con l'età e più c'è un'accelerazione del tempo perché non c'è più tempo per fare niente attenzione che l'aspetto relazionale è un time consuming pazzesco voi se arrivano qua dentro gli investitori dovete mettere dovete pianificare dovete sapere chi sono nome e cognome sapere tirare giù da internet tutto il loro CV tutto e conoscerli tutti stabilire una relazione con tutti mandare una mail a tutti il giorno che sono via e voi alzate il telefono e dite un giorno come vai ma sapete io che alzo il telefono e mi dice ciao Gianpiero ma sapete quanto tempo c'è avuto c'è avuto 10 anni ma vi rendete conto è tempo tempo da dedicare alla relazione l'investitore ci sono certi io ho adesso sto iniziando a valutare un rapporto di partnership con un altro dirigente lui come va in banca il business mi lascia perdere dai 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 ti danno i soldi perché in 25 anni si è creato una reputazione enorme cioè la reputazione non può solo essere basata sul calcolo matematico che voi dimostrate che la cosa sta in piedi è anche un problema di persona proprio prego io continuo a fare disastri in questo in questo in questo in questo in questo io le andi allora è una tesi sperimentale o compilativa? eh lì non c'è il rapporto con l'impresa allora per esempio prendiamo il problema forse no ma un poche slide ce lo dovrei fare allora andiamo a farla in azienda supponiamo allora io comincerei a dire questi signori qua perché hanno voluto fare una tesi con me con il mio non con me perché non mi conoscevano neanche con il mio laboratorio hanno voluto stabilire un rapporto no di sviluppo tecnologico ritorniamo al problema perché comperano qual è il motivo per cui vogliono comprare tecnologie perché adesso traduciamolo banalmente comperano poi non è vero riprendono i soldi però insomma il rapporto è che loro vorrebbero acquisire tecnologia e bisogna andare alle radici profonde del perché vogliono quella tecnologia la vogliono perché vogliono un miglioramento di processo vogliono fare un miglioramento di prodotto hanno un mercato fortemente competitivo e quindi devono battere la concorrenza che gli sta mangiando tutto il mercato hanno un problema di qualità che gli sta erodendo la posizione la reputazione sul mercato cioè tutte queste analisi strategiche anche qui leggetevi porter straordinario autore straordinario tutte le forze in campo da studiare sono queste cioè un imprenditore è soggetto alla pressione di più soggetti un imprenditore parte diciamo guadagnerò avrò un utile di un milione di euro poi comincia il cliente voglia abbassare i prezzi il fornitore che vede che lui comincia a guadagnare allora glieli alza poi arriva il concorrente che gli fa una pubblicità della madonna e lo rovina poi arrivano guadagna aperto un mercato arrivano i nuovi entranti cioè alla fine capisce è circondato da persone che attaccano che attaccano non lui ma le sue prospettive di redditività di guadagno allora l'imprenditore nella tecnologia cosa vede cioè va là perché è l'hobby perché gli piace vedere il robottino che si muove o perché c'è un altro motivo strategico cioè è un mezzo la tecnologia per l'imprenditore l'imprenditore deve far quadrare i conti prende i soldi dal suo conto corrente li investe copre determinati costi spera e si fa un mazzo per avere dei ricavi e quei ricavi devono ritornare nel conto economico con una differenza positiva perché poi deve pagare i soci l'investitore no? dà se la soddisfazione a sé quindi il problema è che comunque per ora certo che per noi oggi la tecnologia è la nostra mission ma per gli altri è un mezzo allora bisogna capire come lo vedono come mezzo quanto valore giunto diamo vi do un esempio non l'ho messo perché se no la pesantivo troppo ma mi rendo conto che forse è la pena allora un'immagine che vedo che abbastanza rimane impressa per capire un po' come la controparte vive l'aspetto di acquisto voi pensate voi signore quando andate al mercato il mercoledì al sabato che tornate con un vestito ho pagato 3 euro no ho fatto l'affare cioè l'ho pagato pochissimo ho portato a casa un valore enorme quello è il surplus per il vostro cliente quello là che l'ha pagato 3 centesimi mi dice ci paga 3 euro dammi io ci ho guadagnato anch'io bisogna guadagnarci tutti e due il problema è che lei sta creando valore per lui e per lei sta creando un valore che dopo deve dividere col suo cliente poi l'asticella del prezzo è lì la contesa no però capisce bisogna capire lui che cosa se ne farà della tecnologia che gli sto facendo oppure se invece che una strategia semplicemente di costo lo vuole abbassare i costi per abbassare i prezzi vuole fare una strategia di differenziazione leggetti di porte vuol dire che vuole creare un prodotto con delle funzioni diverse da quelle del concorrente in modo tale che non si fanno la guerra nel senso che uno con certe funzioni risolverà certi problemi e quell'altro che ne avrà delle altre risolverà altri problemi e quindi si riferirà ad altri clienti e ci saranno certi clienti interessati a questa determinata funzione e altri clienti interessati a quest'altra funzione queste sono tutte strategie che anche se un imprenditore non è studiato come si dice ma le vive le ha di pancia sta a noi che ormai siamo imprenditori evoluti imprenditori tecnologici queste cose vietate non saperle questo è un peccato mortale non saperle le strategie quindi chiunque fa attività di sviluppo tecnologico si deve domandare che tipo di vantaggio competitivo sta creando e per chi e come verrà usata la tecnologia che sta sviluppando va bene altre domande andiamo avanti allora allora questa praticamente sintetizza quello che abbiamo detto occorre un piano di business che convinca la sua possibilità di generare ricavi pare un moltiplicatore dell'investimento cioè attenzione che poi la buccia di banana è sempre dietro l'angolo pari a un moltiplicatore di investimento vuol dire che nella vostra presentazione alla fine ci deve essere scritto che mettendo dentro tot soldi alla fine ne potranno uscire con tot soldi perché a loro interessa questo tempo e soldi ok quindi c'è un tempo di conferimento un tempo di exit di uscita tanto ve lo dimenticate però il problema perché perché dopo bisogna scrivere le slide bisogna scrivere la prima la terza poi se era la fine non c'è più tempo e quella risalta però ecco tentate voglio dire poi la prima volta è sempre un tentativo naturalmente ma è un'occasione straordinaria da prendere questa una straordinaria vediamo se riesco a non ammazzarvi allora dunque qui c'è il problema delle riserve però voi sapete cosa sono le riserve? no allora diciamo che loro escono e vogliono che la loro quota di mercato venga comprata dagli altri soci loro il problema qual è? che uno dice io entro in una società che vale 10.000 euro no quindi gli altri soci mi mettono 7.500 io metto 2.500 l'investitore mette 2.500 euro e dice beh e l'altro milione? allora si mette a riserva e con che logica? perdonate se non sono un economista per cui vado a buon senso la logica è dire io riconosco alle tue quote tecnologo maggior valore perché tu hai know-how e io no quindi vengono messe a riserva la speranza quella è che l'impresa cresca talmente tanto che il capitale sociale diventi veramente molto importante a quel punto l'investitore esce vendendo la sua quota oppure può decidere che congiuntamente si vende la società oppure entra un altro insomma ce ne sono moltissime di formule non è che anzi è anche piuttosto elaborata come cosa non so se ho tentato a rispondere insomma allora la valutazione che faranno sarà di capire se quello che proponete banalmente funziona che è il rischio operativo funziona non dovete solo pensare alla formula cioè poi messo in campo quello che la vostra soluzione risolve effettivamente il problema o no tipicamente dimentichiamo che per esempio una soluzione altamente tecnologica poi messa in mano l'operaio non viene usata perché l'operaio non sa come usarla perché abbiamo dimenticato di prevedere la formazione per esempio o abbiamo dimenticato un costo per la manutenzione periodica ecco cioè la valutazione di funzioni funzionalità non è solo legata a risolvere il problema tecnologico che siete in laboratorio ma è legato al contesto che vive quell'impresa e al problema che ha l'impresa in quel contesto lì va bene allora gli ultimi punti sono coerenza completezza e credibilità scusate allora cosa vuol dire coerenza completezza e credibilità vuol dire stiamo nel semplice nel banale completezza vuol dire che non può mancare la dichiarazione di chi è il cliente o il target cui volete rivolgervi talvolta manca oppure manca completamente la descrizione di chi fa le cose ecco per esempio quindi stiamo nel semplice poi la credibilità i dati che date di mercato sono accompagnati da fonti li dite voi cioè quel dato lì da dove viene chi è che dà valore al dato che state esprimendo c'è una valutazione tecnologica che accompagna il business plan c'è un altro signore che dice sì sì confido io che quella soluzione è buona ecco la credibilità per quanto riguarda la coerenza vi faccio un caso abbastanza così spiritoso dieci anni fa mi hanno raccontato più di più no ormai sono venti anni fa che avevano messo avevano prodotto delle panda elettriche allora ne hanno fatte una decina costavano 50 milioni di lire l'una vendute zero ovviamente quindi un'operazione pubblica inutile perché una panda deve avere un prezzo commisurato per il tipo di cliente quindi vi immaginate un miliardario che si mette in una panda elettrica allora il contrario quello che me lo raccontò mi disse guarda vedi Gian Piero vedi questo sito questo è un sito di un americano che aveva messo una corvette abbinata a un motore elettrico con delle altre prestazioni prototipo era andato in crash il sito dalle richieste cioè per dire ci deve essere commisurazione tra il prodotto e il cliente ecco quando si parla di coerenza si parla di queste cose qui oppure dire che voi tecnici che fino a ieri siete stati in laboratorio che domani mettete in piedi una rete commerciale internazionale non è né credibile né coerente nemmeno con i soldi che magari state chiedendo ci deve essere sempre un bilanciamento fra tutte le cose che di volte in volte ci sono scritte nel business plan allora quindi per evitare questa cosa qua attenzione bisogna correre scrivere un buon business plan e questa mi sembra un'ottima scuola per iniziare allora da chi farsi aiutare per scrivere il business plan beh allora io ho fatto mi è stato chiesto di fare un elenco molto veloce così insomma un po' di quali sono i soggetti del territorio poi potrete approfondire allora ci sono le università che hanno i loro centri di trasferimento tecnologico di sostegno all'innovazione che possono dare le prime informazioni vi possono aiutare a orientarvi nel tipo di valorizzazione vi possono aiutare ad aprire delle relazioni ci sono gli incubatori gli incubatori sapete cosa sono? tutti sapete? tutti no gli incubatori sono delle strutture che sono deputate a ospitare dei proponenti di idee innovative di impresa fa un po' il verso incubatrice perché? perché si suppone che tante buone idee magari non partirebbero nemmeno perché la barriera iniziale è forte la barriera iniziale verso il cliente che non risponderebbe mai i costi iniziali la limitata capacità manageriale allora queste strutture danno servizi di locazione adesso ci sono scritti dopo ah no ci sono lì i servizi di locazione di amministrazione di marketing che possono dare alla formazione facilitano l'incontro con i vostri interlocutori hanno programmi di supporto allo sviluppo del piano di business anche in Toscana per esempio c'è in tanti incubatori si è aperto questo a questo servizio gli stessi enti pubblici che hanno di commercio l'associazione di categoria danno vari tipi di supporto anche qui dal supporto alla brevetazione alla formazione di impresa anche investimenti tipo il piano di commercio di Pisa e possono aprire il network per esempio Pisa esiste il club delle imprese innovative e uno può cominciare da lì a capire qual è l'esperienza delle altre imprese magari l'anno scorso mi sembra che fosse venuto qualcuno a fare una testimonianza l'anno scorso due anni fa un ente in particolare che era Toscana Promozione metteva a disposizione di idee di impresa la possibilità di avere un manager cioè loro pagavano il manager e il manager aveva il compito di aiutare a sviluppare il business plan per esempio oppure un'altra forma di supporto che secondo me è un certo pregio era la disponibilità a una banca dati che avevano acquistato loro ovviamente fare un'analisi di mercato con una banca dati aggiornata è una cosa di pregio non è che sia tanto facile recuperare dati allora permettetemi spendere una parola su un progetto che ho seguito direttamente quindi posso testimoniare per la conoscenza che ho di uno almeno semplicemente le start up innovative in questo progetto erano state a queste promesse imprese che è stata messa a disposizione tutta una rete di soggetti dal consulato britannico alla cd manager ad altre imprese innovative che potevano dare fare sinergia con loro al queen con cui io collaboro per le attività di scouting per esempio allora cosa si fa in un e dopo passiamo al servizio che i trade investment abbiamo finito allora cosa cosa si fa in un percorso di preincubazione in un percorso di preincubazione si ha l'assistenza a capire qual è l'idea supponiamo che qualcuno di voi dica io ho in mente un'idea innovativa ho scoperto una nuova tecnologia benissimo allora c'è la prima intervista si cerca di capire a che cosa può servire dove può essere applicata quali sono i settori a cui appartenono le imprese di non avere interesse per questa tecnologia e fare iniziare a vedere se c'è della sostanza se c'è della sostanza fate tipicamente in tutti gli incubatori c'è da fare una domanda formale per accedere a un servizio di supporto prima c'è un'intervista molto informale poi diventa invece formalizzata ci sono degli incontri e si è aiutati non è che te lo scrivano il business plan si è aiutati a scriverlo dopodiché finita anche questa fase di scrittura del business plan il proponente è invitato a consegnarlo e a dichiarare se ha intenzione di veramente di aprire l'impresa di fare l'impresa o no a quel punto entra nell'incubatore si sta per due anni due o tre anni è un tempo limitato in cui si pagano costi di affitto e di altre utenze in modo calmierato proprio per aiutare ad entrare sul mercato in modo più morbido i costi aumentano progressivamente per abituarsi ai costi veri del mercato dopodiché si passa in un'altra forma di regime che è quella di polo tecnologico e lì si può stare tutto il tempo che si vuole ok ci sono incubatori in cui addirittura vi assegnano una persona di riferimento per esempio che vi segue proprio in tutto il percorso allora un caso particolare merita il UK Trade Investment come vi ho detto all'inizio io collaboro con questa agenzia per l'innovazione che sta a Milano dentro il consolato britannico e è un sudorizio che dura ormai dal 2006 abbiamo fatto tante attività positive insomma anche per la Toscana quando ho imprese che hanno interesse comunque vedono un'opportunità nel collocarsi magari mettere una sede operativa o creare una partnership con un soggetto inglese ci si rivolge a loro e loro hanno una squadra di specialist con una serie di relazioni e contatti nel Regno Unito e possono attivare un contatto quindi possono andare a un servizio di orientamento possono aprire relazioni imprenditoriali scientifiche o verso gli investitori fanno formazione e possono dare ovviamente anche informazioni di tipo sulle eseguazioni fiscali purtroppo da noi non è ancora credo attiva la cosa però in Inghilterra sono molto più evoluti su questo perché c'è una detrazione sulle tasse che si pagano in funzione degli investimenti che vengono fatti non solo ma per esempio se voi facciamo un esempio banale se avete fatto un'innovazione sulla ruota dell'automobile la destassazione viene riconosciuta addirittura sulla vendita di tutta l'automobile quindi potete capire i vantaggi che ne ha un produttore la modalità di interazione con il consolato è semplicemente dire ma potrebbe essere interessante per me mettermi in Inghilterra per vari motivi perché mi apre nuove relazioni perché c'è un partner con cui voglio collaborare si inizia si apre una procedura loro forniscono una serie di informazioni a titolo gratuito purché capiscono che c'è veramente una determinazione forte nel portare avanti il progetto e mettono a disposizione dei servizi per fare analisi di mercato o un domani che siete là anche mettere a disposizione vostra le sedi consolari in tutto il Commonwealth Allora siamo arrivati in fondo dunque dunque ho cercato di riassumere alcuni elementi che io sempre suggerisco di tenere presente perché sono li ritengo dei passi virtuosi per arrivare un domani a dire ma che cosa ho fatto ho fatto questo secondo me si raggiunge più facilmente se ognuno di noi comincia a non trascorre e a così non sottovalutare le risorse e la posizione talvolta di privilegio che si ha ecco non tutti si possono permettere di fare un PSD non tutti si possono permettere di essere all'università di Pisa ecco tipicamente guardate questo è un dato empirico ma 30% delle risorse che avete le scattate semplicemente perché sono vicine le robe vicine non vengono mai considerate di valore bisogna compromettere se si vuole fare qualche cosa bisogna spendere il proprio nome la propria faccia non è questione sempre di soldi è proprio essere lì in prima persona dire lo faccio io cogliere l'occasione senza la paura di affrontare l'ignoto cioè l'ignoto della relazione per dire o l'ignoto del risultato e voi avete paura di fare ricerca perché non trovate il risultato è la stessa cosa per seguire le 3D dell'innovatore dedizione dialogo disponibilità dedizione al business plan dialogo e disponibilità alla relazione per esempio avere consapevolezza che è un progetto di impresa che basa la proprietà sull'innovazione deve essere un processo ciclico cioè non si può immaginare di fare un'operazione quest'anno perché se no si ritorna all'esempio della festa il primo anno facciamo una festa però dopo il nostro lavoro un altro no se vogliamo fare un'impresa innovativa innovativa è un percorso che si inizia a correre e poi si rimane in corsa quindi bisogna innovare continuamente e questo ha delle implicazioni che abbiamo visto prima mantenere rapporti sempre con lo sviluppo continuo di ricerca un rapporto simbiotico con i laboratori con chi fa ricerca allora come vi ho già detto per un investitore l'innovazione è senza giudizio di merito per lui è un'occasione di business cioè vuole capire con quanti soldi entra e con quanti soldi esce dopo un certo periodo definito in tempo per una camera di commercio che non è facente parte funzione di investitore ma lo fa con degli scopi sociali cioè che è quello di aumentare il numero di imprese innovative che possono dare occupazione e lavoro infatti uno degli indicatori importanti per loro è ma quanto occupazione si creerà così quanto valore aggiunto quanto permetterete le imprese di vendere di più per l'innovazione è un'occasione per dare fecondità all'invenzione permettendo che il mercato la adotti e la diffonda purtroppo non c'è tempo ovviamente non è la sede per parlare dell'innovazione ma l'innovazione è un fenomeno che ha delle basi e dei vincoli fondamentali i pilastri sono che deve generare un miglioramento cioè l'innovatore non parte ho trovato un'innovazione adesso no l'innovazione è prima c'è un sacro fuoco dell'innovazione che dice voglio migliorare il mondo e poi vado alla ricerca nella fase esplorativa di punti in cui andare ad applicare per migliorarlo perché c'è la passione dentro di voler creare un miglioramento prima parola chiave miglioramento poi l'altro aspetto è che se non crea un guadagno non si diffonde l'innovazione e sull'innovazione si guadagna se c'è un processo diffusivo allora se io creo un'innovazione e poi ci guadagno solo io andrà poco lontano devo creare una catena di persone che adottano l'innovazione e ci fanno loro ne hanno loro un miglioramento allora i profitti arrivano sono concetti di base ripeto ci vorrebbe una lezione apposta però tenetele presenti ecco questo è l'ultima slide con cui vi lascio e vi ringrazio della giornata dicendo che e vi ripeto che nessuno può esimersi dal dire che non ha un ruolo nell'innovazione tutti ce l'abbiamo non tutti faremo gli imprenditori ma tutti abbiamo un ruolo che si può spendere con questo io ho finito vi ringrazio grazie grazie a tutti grazie a tutti